Basilica del Carmine a Napoli gremita in occasione della preghiera per la pace iniziativa organizzata su invito di Papa Francesco alla stessa ora in cui ha preso il via in mondo visione la preghiera del Santo Padre l'Arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia ha voluto organizzare un momento di preghiera per invocare la fine del conflitto tra Russia e Ucraina dal primo giorno di bombardamenti la Chiesa di Napoli è scesa in prima linea coinvolgendo non solo la comunità ecclesiale cittadina ma anche il mondo dell'associazionismo e le autorità cittadine nella Basilica del Carmine in prima fila anche la presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo e il console ucraino Maxim Kovalenko preghiamo per tutti i bambini uccisi per i popoli che soffrono affinché il loro sacrificio possa portare a un nuovo tempo di riconciliazione preghiamo per i governanti della nazione della terra perché possano promuovere e garantire il bene comune preghiamo per tutti i continenti della terra e gli stati perché nella mutua collaborazione si possa edificare una società nuova animata dalla carità parole quelle di Monsignor Domenico Battaglia sancite poi da un abbraccio con il console ucraino